Il 25 di aprile ci dobbiamo riunire C'è ancora molto da fare, ancora molto da dire Perché è passato l'inverno, è caduto il governo L'Italia è diventata un inferno Onorevole, onorevole, questo è disonorevole Onorevole, onorevole, è davvero deplorevole Albi dei, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione della rivoluzione Albi dei, ci sei o non ci sei? Serve una nuova soluzione, c'è poca informazione